Siamo con il presidente Ciaccia dello Sport Infreggene Focene Atletico, forse l'esordio che non vi aspettavate in questa competizione, nella Serie D, però anche una gara che può aiutarvi a capire il tenore di questa categoria? Sì, una gara che ci aiuta a capire quello che era scontato, che io dico da tempo, questa è una categoria difficile, noi dobbiamo confrontarci comunque come una neopromossa, anche se credo che oggi andando a guardare quello che è successo in mezzo al campo il risultato è particolarmente bugiardo, la prima impressione, poi magari rivedendo tutte le immagini dimentica anche qualcosa, però prima del loro gol sicuramente noi abbiamo due o tre occasioni clamorose, quindi andando in vantaggio la partita potevamo prendere un'altra piega, è chiaro che non potevamo avere 90 minuti nelle gambe in 10 per riuscire a forzare fino all'ultimo minuto. Ecco, al di là del risultato, che comunque insomma vi condanna un po' eccessivamente, a mio avvio si è visto comunque un atletico sulla faccia dello scorso anno, tanto possesso palla, tante azioni da gollo, una squadra che comunque vuole divertire anche in Serie D. Sì, noi non possiamo perdere quello che è il nostro, l'idea di gioco che avevamo lo scorso anno, sicuramente l'allenatore cerca di riproporla e pensiamo di poter far bene anche in questa categoria. Sicuramente dobbiamo valutare che gli errori in questa categoria si pagano molto più caramente, quindi vuol dire che il primo gol c'è un errore in ripartenza, nel secondo gol comunque c'è una disattenzione, quindi i ragazzi devono comprendere che bisogna essere molto più puntuali e attenti in tutte le giocate. Stessa filosofia, anche stesso impianto, riammodernato ovviamente il Paglialunga, ma quando si andrà a giocare a Fiumicino, Presidente? Questo non dipende solo da noi, insomma, noi siamo in attesa, il sindaco il giorno della presentazione ci ha promesso che entro il mese di ottobre ci metterà nella condizione di presentare il progetto per lo stadio, però non possiamo sicuramente pensare a tempi brevi, comunque questa stagione sicuramente sarà disputata tutta al Paglialunga. Chiudiamo con il mercato, c'è da aspettarsi qualche altro volto nuovo qui a Freggene? No, noi non abbiamo operazioni di mercato né in entrata né in uscita in questo momento previste, però poi ancora il mercato è aperto, quindi si può valutare anche il desiderio di qualche ragazzo e comunque teniamo gli occhi aperti. Federico Sevieri, centrocampista, capitano anima di questo sport in Freggene Focene Atletico, oggi è una prestazione che non vi prema per quanto creato, soprattutto sottoporta, tante occasioni sprecate, ecco magari questa partita può essere una buona prova per capire la Serie D con un campionato molto più difficile rispetto all'eccellenza. Sì, assolutamente, è stato il nostro esordio nella categoria e siamo amareggiati sicuramente, dato il risultato, ma soddisfatti dal punto di vista della prestazione secondo me. Abbiamo dimostrato anche sotto di un uomo di riuscire a mettere sotto il nostro avversario tranquillamente, abbiamo giocato un buon calcio e siamo stati forse poco precisi sottoporta, questo è l'esamina della partita. Chiediamo anche l'episodio che ti ha visto protagonista, l'espulsione, cosa è successo? Ma è successo, forse una protesta troppo eccessiva, mi ha detto che ho bestemmiato, ovviamente non è così, però ecco ho sbagliato perché non gli devo dare neanche la motivazione per attaccarsi a qualcosa. Invece ti chiedo da capitano come valuti l'inserimento dei nuovi e dei giovani che comunque saranno molto importanti nel corso del prossimo campionato? Di base ci portiamo dietro un grosso gruppo dallo scorso anno, una decina di grandi che trascinano il resto, poi l'innesto dei nuovi è fondamentale, che conoscono la categoria, sotto forma della qualità del gioco come giocatore di certo non li scopro io, però dal punto di vista umano si stanno dimostrando degli ottimi innesti, insomma, quindi c'è un'inquadratura, un'intelaiatura importante per fare bene sicuramente.